Segnali di rallentamento della curva epidemica si stanno vedendo, segno che le restrizioni imposte nelle ultime settimane stanno dando i loro frutti, non solo in Abruzzo, dove la zona rossa è stata varata mercoledì scorso. Ieri, per il secondo giorno consecutivo, c'è stato un lieve decremento del numero dei nuovi positivi, che, ben inteso, resta sempre molto alto se parametrato ai tamponi. 560 su 4.578 test molecolari, con una percentuale che resta sopra il 12%, pressoché simile a quella di sabato. E' forse troppo presto per capire se il trend in discesa continuerà. Ma è un segnale incoraggiante se si pensa che la scorsa settimana le percentuali dei positivi sui tamponi erano quasi prossime al 19%. Continuano ad esserci decessi, 12 nelle ultime ore, mentre i segnali positivi arrivano dal lievissimo decremento dei ricoverati in terapia intensiva, uno in meno, rispetto ai 664 ricoverati. Anche questi i numeri in decrescita di 12 unità. L'Aquilano e il Terramano restano le province più problematiche dal punto di vista del contagio. Nel capoluogo di regione, nella sua provincia epicentro della seconda ondata epidemica, a breve, forse entro il prossimo fine settimana, dovrebbe partire uno screening di massa annunciato anche dal governatore Marsilio. 300.000 tamponi veloci dovrebbero essere somministrati in modalità drive-in su base volontaria alla popolazione dei 108 comuni della provincia aquilana, sul modello di quanto accaduto in questo fine settimana in Alto Adige. Una campagna che il presidente del Lancia Abruzzo, Gianguido Adalberto, ha chiesto venga estesa anche al resto della regione.